C'è un altro Pocket Fighter da farvi vedere ragazzi. In questo Capcom Fighting Collection il vostro amico Gabri Costa vi farà vedere l'introduzione di Super Gem Fighter Mini Mix del 1997. Guardatela con attenzione questa introduzione. Anche qui i personaggi della Capcom sono piccoli e si sono rimpiccioliti. Bello il logo Capcom. Ecco guardate abbiamo la donna gatto Felicia. E poi abbiamo tutti gli altri. Abbiamo Ryo Eken. Questa è Morrigan. La succube. Che può diventare qualsiasi cosa. Ci abbiamo tutti. Anche la stregatessa. Se volete giocare a Super Gem Fighter Mini Mix è lì che vi aspetta. Gabri Costa ve lo consiglia. Se il video vi è piaciuto condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. 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 Grazie.